Finalmente è finita questa stagione degli Anelli del Potere. Per molti potrebbe essere una gioia, poiché i commenti critici sono stati numerosi, allo stesso tempo potrebbe essere anche un dispiacere perché probabilmente non avremo più qualcosa di... Anche se posso già anticiparlo, su questo canale mi piacerebbe trattare degli argomenti sempre collegati al Signore degli Anelli. A questo Signore degli Anelli, ovvero alla cinematografia di Peter Jackson, dal momento che c'è moltissimo contenuto, specie sul piano musicale di cui discutere, sia dei tre film del Signore degli Anelli come anche del... Ma tornerò comunque sull'argomento degli Anelli del Potere, specialmente per discutere di alcuni aspetti musicali della musica di Bear McCready, che non affronterò in questo video, dove faccio una mia considerazione su quest'ultimo episodio della seconda stagione, con anche una considerazione generale su quella che è la cinematografia attuale, o comunque quel tipo di serialità, di stile, delle serie televisive, che abbiamo visto con questo ultimo episodio come con tutto. Vorrei discutere un po' di quelli che sono state per me degli aspetti poco convincenti in questa serie televisiva, e quello che trovo magari in tanti altri tipi di cinematografia. Prima di tutto, l'assenza di temporalità. Ci sono tante scene che non hanno un esso temporale. Ci sono tanti spostamenti nello spazio e nel tempo che non riusciamo a spiegare. Ad esempio, lo spostamento dei nani nelle region. Ciò mi dà l'impressione che gli sceneggiatori abbiano poco tempo per sviluppare queste linee. Hanno scelto di fare solo otto episodi? Ci sarà una ragione per... Di conseguenza, ho l'impressione, dato che il budget comunque è stato molto consistente per questa realizzazione, non investirlo su una linea narrativa un po' più diluita, ma sempre ovviamente con un ritmo interessante, sia un po' una scelta pigra e superficiale che ci lascia con tante domande. Non dobbiamo cercare una risposta. E questo, sinceramente, mi distrae molto dalla narrazione. Mi distrae molto dal godermi una puntata, riuscendo a comprendere un pochino i collegamenti. E quindi bisogna un po' dare per buono certe scelte senza trovarne una ragione. Un esempio è Gandalf, che finalmente viene confermato. Che di punto in bianco si trova a contatto con lo scuro stregone, nello stesso luogo in cui si trovano gli Hobbit, in quanto evidentemente ha deciso di salvarli, anche se non possiamo comprendere come si è riuscito a raggiungerli. Anche questa cosa ovviamente non ci viene spiegata, tutto off-screen. E qui abbiamo un contatto tra questi due stregoni, perché lo scuro stregone sembra... Per come ci viene presentato, sia a livello di aspetto, ma anche un po' per il suo discorso. Che è in cerca di una soluzione contro Sauron, però dimostrando di voler lui stesso rimpiazzarlo, seguendo... rimpiazzarlo... perseguendo un po' una ricerca di potere. Cosa che invece Gandalf ha scartato in favore dell'amicizia. E quindi l'alone di mistero che potevamo avere su questa figura, su questo straniero, naturalmente è stata confermata in maniera, quanto meno scontata, con quello che già ci eravamo prefissati dai primi episodi della prima... Nella storyline di Numenor non mi vorrei spendere in altre parole, in quanto speravo di non vederla, sinceramente. Eppure ho dovuto assistere all'ennesimo gioco di potere fatto da parte di Farazon, al quale i Numenoriani cascano. Basta evidentemente un documento presumibilmente falso per convincere i fedeli Numenoriani che Tarmiriel, appunto, possa essere una tradizione. E qui abbiamo naturalmente continue citazioni al Signore degli Anelli di Peter Jackson, anche con la scena tra Tarmiriel e Elendil, dove viene sguainata Narsi nello stesso modo in cui Aragorn sguaina Anduril di fronte a... Evidentemente la scelta di fare così tante citazioni si presume di poter strappare un sorriso e un po' di gioia da parte dei fan della trilogia, anche se a un certo punto mi dà l'impressione che possono bastare queste citazioni per fare la serie. Ne troviamo altrettante anche da parte di Poppy, almeno il tipo di discorso che le fa, che è sicuramente bello a livello scenico, perché comunque ha un suo valore emotivo, comunque preso sempre da quello di Sam, fatto da Frodo a Osgiliath. Quindi abbiamo un certo tipo di citazionismo anche nella messa in scena, cosa che ovviamente ci può andare bene dal momento che questa è una serie che si vuole collegare molto, discostandosi molto da quel tipo di narrazione, come anche da quel tipo di personaggi, nel modo soprattutto in cui questi vengono presentati a livello cinematografico. C'è poi qualche piccolo aspetto che mi è piaciuto di questo episodio, come ad esempio la scena in cui gli orchi entrano dentro la fortezza e abbiamo un'inquadratura in prima persona, in movimento. Questa mi è piaciuta molto a livello cinematografico, anche se comunque è durata abbastanza poco e avrei voluto vederla messa in scena nell'episodio precedente, poiché qui del combattimento alla fine abbiamo ben poco. Però almeno questa scena secondo me è efficace, potrebbe essere anche la messa in scena della morte di Celebrimbor, anche se forse estremamente drammatica e con una punta di assurdo risentimento da parte di Sauron, anzi diciamo più che altro di compassione da parte di Sauron e non è l'unica questa, in cui lo vediamo sgorgare una lacrimuccia nei confronti di Celebrimbor, forse perché si era affezionato a questo elfo, nonostante Sauron debba essere comunque un essere particolarmente malvagio. In questa serie abbiamo un Sauron che sembra più umano, un Sauron che sembra avere una sua motivazione per perseguire un po' i propri fini. Evidentemente si vuole far percepire una certa umanità da parte di Sauron, una certa affezione, i propri sentimenti, che vengono messi anche in campo contro Galadriel. Lui in tutti i modi vuole cercare di corromperla, di renderla la sua regina e di conseguenza anche per questo motivo evidentemente nello scontro non utilizza tutti i suoi superpoteri che invece abbiamo visto precedentemente, cercando invece un po' di corromperla con delle trasformazioni, quindi sull'aspetto sempre dell'illusione, che però alla fine non riescono comunque a convincerlo. E così Galadriel, dopo essere stata trafitta, cosa che naturalmente non la uccide dal momento che possiede comunque l'anello magico che guarisce tutti, decide di buttarsi giù dal dirupo per poter sfuggire a Sauron, che ha tentato a Sauron. La sua caduta naturalmente non la uccide perché ormai sappiamo che Galadriel non può morire, poiché è già neanche una colata piroclastica riuscita a scalfirla nella stagione precedente. E la lasciamo comunque mezza morente nelle mani di Elrond che la salva decidendo infine di far uso dell'anello e così facendo porta gli Elfi verso quello che sarà il loro percorso nel fondare Gran Burrone e poi nel continuare la battaglia contro Sauron fino a quello che poi vedremo nel Signore degli Anelli. Questa sezione quindi la posso considerare almeno più efficace rispetto alle precedenti. Ci dona un bello scontro tra Annatar e Galadriel con una musica d'effetto che ricalca bene anche le trasformazioni di Annatar e marca bene anche il momento in cui le riesce a ferirlo e c'è questa musica corale che abbiamo sentito già nella battaglia delle Region che aumenta la drammaticità della scena e il momento, il pathos in cui poi di conseguenza si butterà con l'anello. La considerazione finale che posso avere della serie completa a meno di queste prime due stagioni è che appunto il tutto non venga affrontato con una certa linearità e scorrevolezza. Tante scene vengono sviluppate fuori dallo schermo e questo mi lascia personalmente con una narrazione interrotta a dovermi creare le scene io stesso a dover giustificare quello che sto vedendo e purtroppo, secondo me, non avere una certa scorrevolezza nella visione porta un pochino ad avere uno scetticismo in quello che stiamo vedendo a farci delle domande in più che non dovremmo farci giustificare quello che stiamo guardando perdendo il filo stesso della narrazione. Naturalmente il tutto è molto scenografico per non citare poi lo scontro tra Durin e il Ballorog in cui abbiamo un'altra ovvia citazione a Peter Jackson e anche uno scontro che ricorda quasi un combattimento della Marvel già citata precedentemente o anche di qualche anime giapponese. Quindi l'aspetto scenico diventa quasi una delle cose più importanti nella messa in scena di questo prodotto. Naturalmente il motivo c'è perché lo si vuole vendere a una massa che cerca questo tipo di retorica questo tipo di messa in scena specialmente forse il pubblico giovanile o comunque il pubblico appassionato alla cinematografia americana specialmente appunto ai film dei supereroi come anche a un certo tipo di narrazione che come dicevo dà più importanza all'aspetto visivo che a quello narrativo. Per cui non penso che sia necessario dover aggiungere altri commenti e osservazioni e aspettare la prossima stagione se verrà sviluppata che spero sinceramente possa avere uno svolgimento della narrazione un po' più lineare più organico con meno scene tagliate prese fuori dallo schermo e magari anche uno sviluppo psicologico più intenso dei personaggi cosa che finora non abbiamo visto più di tanto secondo me. Con questo è tutto vi aspetto di poter proporre numerosi contenuti a livello musicale specie sulla trilogia del Signore degli Anelli come su qualche altro contenuto sempre nell'ambito cinematografico e noi ci vediamo al prossimo contenuto. where the shadows lie where the shadows lie Grazie a tutti